Musica Seguono i confaluni dei comuni di pesi vicini interessati nella produzione del vino d'occa e subito i rispettivi sindaci o legali rappresentanti, tra i quali il sindaco di Solopaca, insegnante Giovanni Volpe, amministratori comunali di Solopaca, membri della locale cantina sociale dell'associazione Proloco, esponenti del comitato organizzatore dell'undicesimo sagra dell'Uva. Dopo i sindaci e le attualità, è il turno del fabio portato dai rappresentanti del rione Teresini.